Saluto e presento innanzitutto i nostri ospiti, che sono Maela Allegretti, Laura Triburzi e Matteo Brasca, che sono i nostri alunni EDA. EDA è un'abbreviazione del nostro corso di studi di ingegneria e di architettura. E presento anche Sandro Morselli, che qualcuno di voi ha visto poco fa e che rappresenta la segreteria didattica del Polo. Una segreteria decisamente efficiente che permetterà per chi sceglierà di fare questo corso di studi di avere tantissimi vantaggi nel trovarsi all'interno di una struttura molto accogliente e che risponde alle domande degli studenti in modo molto celere. E poi abbiamo i rappresentanti degli studenti, chiedo loro anche di farsi vedere, che sono due studenti, li vediamo insieme, Sara Ferrandino e Martin Lusiani, che sono degli studenti del terzo anno. E poi ho chiesto anche di venire agli altri due rappresentanti degli studenti, che sono Matteo Giannoli e Valeria Gonzales, che probabilmente ci raggiungerà. Non so se è arrivato il mio vice coordinatore del corso di studi, che è Francesco Pittau, e nel caso ve lo presento successivamente. Io sono, chi sono io, ma è così forse anche questo sarebbe il caso che mi presentassi, sono Laura Malighetti, sono il coordinatore del corso di Ingegneria Edile Architettura. Sono un architetto che ha fatto un dottorato in Ingegneria Ergotecnica Edile, a suo tempo si chiamava così, e quindi una figura ibrida un po' come lo è questo corso di studi. Sono un corso di studi che di conseguenza apprezzo moltissimo, e nel motivo anche per il quale io ho l'onore, diciamo, in questo momento di coordinare, e che in qualche modo appunto rappresenta proprio la figura di un professionista che è sintesi tra le competenze architettoniche e ingegneristiche. Sono anche ovviamente un docente del corso di studi e mi occupo di una materia che si chiama Recupero e Conservazione degli Edifici, e sono professore associato al Politecnico di Milano in una disciplina che si chiama Architettura Tecnica, che è anche una disciplina fondante, diciamo, di questa scuola. Se mi permettete ora io vi condividerò una bellissima presentazione del corso di studi, giusto per darvi qualche indicazione prima di lasciare poi la parola per questo incontro ai nostri ospiti, perché l'obiettivo di questo incontro è proprio quello di farvi capire che cosa significa, cosa fa un ingegnere edile architetto, quindi che pensa, gestisce e realizza progetti complessi sostanzialmente. Quindi vi ripresento con un po' più di dettaglio, ma poi magari chiederò ai nostri ospiti di farlo anche loro in modo più completo di quanto farò io, di chi sono. Quindi abbiamo visto Maela Allegretti, che è Senior Facade Engineer dei Arup e lavora a Londra, quindi si sta collegando da lì. L'ingegnere Matteo Brasca, che è partner di IAce SRL, che è una società di ingegneria con sede a Milano, e l'ingegnere e architetto, in questo caso Laura Triburzi, che è BIM Coordinator di Mario Cucinella Architects, che è uno degli studi di architettura più importanti che abbiamo in Italia. Arup Londra è una delle società invece di ingegneria più importanti che si occupa soprattutto di temi relative alle facciate, quantomeno il ruolo che ha Maela all'interno di questa società. E come dicevo, Matteo Brasca opera essenzialmente nell'ambito della progettazione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sostenibilità e al controllo della qualità del progetto. Allora, la nostra scuola, in realtà il nostro corso di studi di ingegneria e di architettura, fa parte di una scuola che si chiama AWIC, Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, che raccoglie un po' tutti i corsi di studi che lavorano sul mondo delle costruzioni. Questo è un mondo molto complesso, quindi esistono tanti corsi di studi che preparano i nostri studenti su questo settore, un po' di orgoglio Politecnico, ci teniamo a dire che siamo i primi in Italia, i quinti in Europa e i decimi nel mondo, quindi sicuramente qualora scegliate di lavorare in questo settore, di formarvi in questo settore, saprete che al Politecnico trovate sicuramente il numero uno in Italia e nelle prime posizioni nel resto d'Europa e nel mondo. È una disciplina, è un corso di studi nostro, che unisce due discipline importanti, che sono quelle dell'ingegneria e dell'architettura. Sandro, se riusciamo a silenziare lo studente che è entrato con una… Grazie. Dicevamo che sintetizza due discipline così importanti, apparentemente lontane, ma in realtà non lo sono poi più di tanto, che sono l'ingegneria e l'architettura, da cui deriva questo nome. Ed è l'unico corso quinquennale che esiste al Politecnico di Milano e che appunto caratterizza questo corso, che ha anche un'altra peculiarità, di trovarsi in una sede bellissima, che è quella del polo territoriale di Lecco. Una sede quindi molto adatta allo svolgimento dell'attività, che possiede aule ben attrezzate, laboratori, spazi espressamente pensati per questo corso di studi, che permetteranno quindi a chi sceglierà di svolgere questo percorso, ovviamente di trovare un ambiente perfettamente congruo alla formazione di un ingegnere e dell'architetto. Noi accoglieremo quest'anno, a partire dal prossimo anno accademico, 120 studenti e come vi dicevo, per formare una figura di ingegnere e architetto, come vi racconteranno i nostri ospiti, sarà necessario lavorare su molte aree disciplinari che appartengono a entrambi i mondi, quindi vedete la storia dell'architettura dell'arte, il disegno e la rappresentazione, ma anche la matematica, la fisica, l'economia, le scienze giuridiche, la sociologia, la progettazione architettonica, quella urbanistica, le tecnologie costruttive, la produzione edilizia, la progettazione delle strutture e una serie di approfondimenti tematici che poi vengono lasciati allo studente. La cosa anche molto importante di questo corso di studi è che insieme alla formazione, diciamo, di un buon ingegnere e di l'architetto, c'è anche quella di una figura che ha delle competenze molto importanti oggi nel mondo del lavoro che sono quelle che vengono definite le soft skills, sicuramente qui vedete le 10 top 10 skills che vengono richieste e ritenute indispensabili nel mondo del lavoro e che voi imparerete ad apprendere lavorando attraverso anche le modalità con cui si lavora all'interno di questo corso di studi, cioè didattica frontale e laboratori, che sono sicuramente la capacità di risolvere problemi complessi, il pensiero critico, la creatività e direi il coordinamento con gli altri, quindi la capacità di gestire anche dinamiche di gruppo ed eventuali conflitti che nascono al suo interno. Quindi essenzialmente un ingegnere e di l'architetto cosa fa? Progetta, calcola e gestisce essenzialmente edifici, ma lavora anche a scale diverse. Per darvi un'idea di che tipo di… come questo incontro è espressamente dedicato, diciamo così, alla professione, vi dico solo che i nostri laureati, circa il 60%, opera nel mondo della libera professione, ma soprattutto degli studi d'architettura, come quello in cui lavora Laura Triburzi, o le società di ingegneria, come quelle in cui lavora Maela Allegretti e Matteo, e qui vedete i numeri, diciamo, rispetto al… abbiamo detto al come si impiegano i nostri laureati, 60% in questo campo, il 12% nelle pubbliche amministrazioni e nel campo dell'educazione e il 17% nelle imprese di costruzione e industria di produzione. Questi dati sono dati relativi all'anno scorso, quindi potrebbero essere molto diversi quest'anno, nel senso che abbiamo avuto un boom nel mondo dell'edilizia, ma i dati, diciamo, che abbiamo all'anno scorso erano di circa il 94% di occupati nostri, trovano lavoro essenzialmente nel settore per cui hanno studiato con un tempo massimo di due mesi di attesa, cosa che oggi si è ridotta a zero, considerando che appena escono i nostri laureati, di solito hanno difficoltà a scegliere in quale studio, in quale società di ingegneria collocarsi, proprio perché ricevono molte domande. di molte offerte. Vi dicevo che questa è solo una breve introduzione, non è un Open Day, perché ci saranno dei momenti dedicati a questo scopo, quindi vi chiedo, nel caso siate interessati, di memorizzare queste date, che sono a metà marzo e tendenzialmente al pomeriggio, e saranno degli incontri online, e poi ci sarà un grande evento, diciamo, finale dedicato all'Open Day, con il 2 aprile mattina, dove ci saranno una serie di seminari tematici, che ancora una volta cercheranno di dare completamento alle spiegazioni che verranno fatte all'interno del webinar online, e a darvi così un quadro completo per poter scegliere consapevolmente la strada da intraprendere per il vostro futuro. Sappiamo che questa è una scelta veramente importante per voi, quella che un po' segnerà il vostro futuro, quindi fate le scelte informandovi molto bene. Avrete il sito della nostra scuola, dell'Ateneo, che vi dà informazioni, vedete qui già, dell'Open Day con tutti i link per poter partecipare, e poi noi abbiamo anche un sito, diciamo, una pagina web relativa al corso di studi, e poi abbiamo ovviamente anche i social, perché questi non possono mancare, quindi abbiamo una pagina Facebook, anche Instagram, che dà una serie di informazioni. Certamente, diciamo, la pagina web del corso vi permette proprio di orientarvi un po' per capire come sono fatti i corsi, che tipo di attività si fanno, cosa si fa dopo la laurea, quindi andate a guardare questo sito per potervi eventualmente informare meglio. Quindi ho cercato di essere davvero, di concentrare la mia presentazione nel più breve tempo possibile, per poter appunto lasciare spazio ai nostri ospiti, e mi piacerebbe appunto iniziare magari da qualche racconto, potremmo iniziare da Laura, se ha voglia di raccontarci, Laura Tiburzi, di raccontarci un po' del suo percorso, di che cosa sta facendo all'interno dello studio in cui lavori, per raccontare ai nostri giovani, appunto, che cosa fa un ingegnere edile architetto. Prima ho detto che Laura è sia ingegnere che architetto, perché al termine di questo percorso di studi, il laureato ha l'opportunità di scegliere se iscriversi all'ordine, cioè sostenere l'esame di Stato presso l'ordine degli ingegneri, o quello degli architetti, che poi è un nome molto più lungo, per sintesi vi dico, per semplificare vi dico semplicemente le due parole chiave. Laura ha scelto di fare l'esame di Stato in tutti e due gli ordini professionali e di iscriversi a entrambi probabilmente. Quindi, Laura, vuoi raccontarci qualcosa di questo tuo percorso, come ti ha aiutato la tua formazione rispetto a quello che stai facendo oggi e che cosa fai? Prima di tutto, buongiorno a tutti. Grazie non solo alla professoressa Malighetti che mi ha invitato, ma grazie a tutti voi presenti, perché comunque state dedicando tempo e energia a questo momento. Solo un appunto per correttezza a quanto preziosamente detto dalla professoressa. È mia intenzione iscrivermi entrambi gli albi, ma per il momento sono iscritta una sola. E quale? Ce li sveli? Agli ingegneri. Agli ingegneri, allora niente, perché vincono gli ingegneri, bisogna ammetterlo. Solo per puntualizzare, visto che stiamo registrando, sia mai che vengono fuori le bugie. Però la verità è che, pur essendo iscritta al live degli ingegneri, ho sempre lavorato in ambito architettonico, quindi faccio proprio parte di quelle figure di sintesi che utilizzano l'ingegneria come funzionale all'architettura, diciamo così. E questa è un po' la risposta che do quando mi chiedono ti senti più ingegnere architetto? Preparatevi perché facendo questo corso vi verrà chiesto moltissime volte. E allora la mia risposta è, nel mio caso, l'ingegneria è preziosissima idea di funzionare all'architettura, perché riesce a portare a terra, a concretizzare o portare al cielo quando dobbiamo salire nelle torri. Io mi occupo molto di torri, portare al cielo la nostra architettura. Sono felice di fare un po' da testimonial a questo corso, perché se mi chiedeste lo ripareste, direi sì. Sono sicura che quello che ha detto la professoressa Malighetta non è solo per pubblicizzare il corso, ma veramente in Italia questo è un corso ottimo, tra i migliori che esistono. Ci sono altri corsi di edile architettura che potete valutare in alternativa, ma in generale l'idea stessa del corso di edile architettura è vincente, perché questo è quello che ho notato nella vita professionale, chi studia architettura pura tende ad avere una formazione più umanistica, parlando in generale, e chi studia ingegneria pura tende ad avere un approccio più umanistico, più ingegneristico, tecnico. La verità è che siamo di fronte a una realtà molto complessa nella progettazione adesso. Io per esempio mi occupo per lo più di torri, come dicevo prima, ve ne mostrerò magari una che qualcuno di voi potrebbe aver visto, perché è in Italia, hanno scelto una in Italia per questo motivo, e quando siamo di fronte a nuovi quartieri, nuove città, torri, centri complessi, ospedali, siamo veramente di fronte a una pluralità di persone. Quindi, quello che fa un edile architetto magari non è essere specialista, necessariamente specialista in un campo specifico, come è il caso di Maela, Maela è super specialista in facciate, complimenti Maela, ma ci sono anche figure di sintesi che nascono proprio dalla preziosità di edile architettura. La capacità di capire qual è l'esigenza ingegneristica è rispettare il linguaggio e l'esigenza architettonica che è altrettanto valida. Io sono più una figura di sintesi. Mi occupo di BIM, che è il campo della digitalizzazione dell'architettura, in questo, ho detto in modo molto semplice, ma chi di voi è curioso può cercarmi su LinkedIn, cercarmi su YouTube, trova un po' di spiegazioni, chiacchiero e spiego che cos'è. BIM! Ecco, nella digitalizzazione c'è bisogno di figure di sintesi, figure che capiscono dove la tecnologia è funzionale, al processo creativo e di progettazione, e dove invece la tecnologia è un ostacolo, e quindi bisogna creare nuovi modi, nuovi metodi, affinché la tecnologia sia snella. Non so se posso parlare del mio percorso o vuole farla parlare ad altri? Sì, mi piacerebbe. Dopo magari vediamo qualche tuo... Facciamo un po' di un giro sempre. Sì, allora, scusa Matteo, ma farei Maela Allegretti semplicemente perché, come dicevamo, sono dieci anni che non vedo Maela. Maela è stata una mia studentessa diciamo tesista che ricordo con grandissimo stima e affetto, onestamente, perché aveva partecipato già con la sua tesi di laurea ad un progetto quasi di ricerca che poteva anche un po' assomigliare a una tesi di dottorato, perché era stata coinvolta diciamo all'interno di questo progetto. Magari se puoi raccontarlo tu e come ti è un progetto di ricerca diciamo che aveva a che fare con l'esistente e che credo che in qualche modo ti sia ritornato utile perché vedo che tra le tante cose che fai ora ti stai anche occupando della riqualificazione di alcune torri spero evitare che possano succedere delle tragedie come quelle che hanno riguardato la nota torre di Londra che è andata a fuoco. quindi se vuoi raccontarci un po' il tuo percorso anche come diciamo studente prima poi lei si è anche fatto un ulteriore passo di formazione all'estero e come ti è servito essere diciamo formarti al Poltecnico per la tua carriera. Grazie Laura prima di tutto grazie per l'opportunità di essere qui a raccontarmi e a raccontare agli studenti un percorso di formazione lavorativo che ha seguito l'Eda e soprattutto mi fa molto piacere anche a me vederti dopo tanti anni sì io Eda mi sono lavorata nel 2013 e come Laura ha giustamente detto il mio lavoro di tesi e forse anche qualche anno prima già dalla mia partecipazione ad architettura tecnica qui in Inghilterra chiamata Building Physics mi aveva spinto molto nel mio interesse sulle facciate sul recupero dell'involucro e la tesi di laurea era particolarmente aveva diciamo un taglio un po' sociale perché parlava della riqualificazione di un intero quartiere di social housing di edilizia pubblica particolarmente con focus nell'involucro adesso scusate mi mancheranno le parole perché poi sono dieci anni che parlo soltanto in inglese quindi scusatevi se ogni tanto vabbè un termine inglese salterà in mezzo al mio italiano però sì sono facciatista nell'ufficio di Londra di Arup che è un'azienda multinazionale presente in moltissimi paesi nel mondo anche in Italia a Milano e con anche un team un po' più piccolo di facciate anche nell'ufficio di Milano facciatista il mondo di facciate è un mondo popolato da italiani perché proprio per corsi di laurea come quello di ingegneria e di architettura la figura del facciatista così proprio per la definizione perché guarda all'involucro è una figura che deve un po' è un po' la comunione di aspetti ingegneristici perché ovviamente la facciata deve rispondere a tutta una serie di parametri ingegneristici ma anche architettonici perché è la business card dell'edificio e molti sforzi architettonici sono proprio messi nel vestito nella rappresentazione dell'edificio dall'esterno quindi è proprio un mondo in cui noi ingegneri edili architettura ci ritroviamo e infatti nel nostro per darvi un'indicazione nel mio ufficio di Londra siamo 60 facciatisti di cui più di 20 sono italiani quindi ho un mio mini team italiano in facciate questo in breve poi vi racconterò come Laura ha detto un po' di progetti il mondo delle facciate è molto vario si occupa sia di edifici di nuova costruzione che ovviamente di recupero di edifici esistenti il recupero ha poi diverse sfaccettature c'è una parte heritage quando ovviamente ci sono edifici che hanno un carattere una valenza storica noi in Italia ne sappiamo più di altri paesi come poi invece c'è più il recupero funzionale dell'involucro dell'involucro in sé e mi occupo un po' di tutto e vi farò vedere due progetti un po' diversi uno per come nuova costruzione complessità e un altro invece per come Laura diceva per il suo valore sociale e per il recupero dell'involucro in sé Maela tu hai fatto poi proseguito anche un percorso a BAC Sì esatto io ho seguito dopo la laurea ho fatto un master proprio per il mio interesse nelle facciate volevo un po' approfondire la mia determinate cose la mia lingua prima di entrare nel mondo del lavoro la mia conoscenza della lingua inglese del crearmi un po' un vocabolario tecnico anche inglese e soprattutto approfondire il mondo delle facciate quindi il mio master che dal nome in realtà dice poco Modern Building Design all'università di Bath era molto concentrato sul mondo delle facciate come ha detto Laura voglio fare un po' la testimonia del corso di ingegneria di architettura niente da togliere a università internazionali però tutto quello che abbiamo io ero la prima della classe al master a BAC non per mio merito personale ma perché tutto quello di cui abbiamo parlato io già sapevo grazie al mia formazione dell'ingegneria dell'architettura quindi io raccontavo raccontavo agli studenti quello che già avevo appreso ma già a partire dal primo anno di ingegnere dell'architettura e quindi devo dire un master che mi è servito per alcune cose non necessariamente per la formazione ma più per crearmi ovviamente un mondo di contatti un mondo di facciate piccole in Inghilterra e anche per incanalarmi poi nel mondo del lavoro grazie Mariela per questa introduzione nel frattempo è arrivato Francesco Pittau che magari può accendere la telecamera se vuole che è il nostro vice coordinatore del corso di studi anche lui ingegnere edile architetto naturalmente il quale magari sta tenendo d'occhio la chat e mi dice che ci sono delle domande che c'è qualche domanda ciao laura e c'era anche Laura Tiburti che non sa più di tempo che ci diamo Matteo lo vedo sempre ma è la ciao in realtà c'era una mano aperta c'era una mano alzata scusate ma è sparita quindi ero la mano vento d'occhio eccola Lucia ti ho alzato la mano prima buongiorno devo dire che siamo arrivati da poco perché avevo un corso da fare per scuola per il PCTA però era un argomento molto interessante per architettura edile quindi volevo avere un po' un piano generale di cosa avete parlato ah ok allora adesso tu vedrai una registrazione se ti sei persa qualche passaggio perché in ogni caso stiamo registrando questo intervento nel frattempo magari lasciamo un po' di spazio comunque ai nostri relatori in modo tale che lo possono raccontarci e usate la chat per fare delle domande alla chat risponderanno eh sì ma io non mi facevo scrivere per quello dovrebbero consentirti di scrivere scrivete nella chat e nel caso vi rispondiamo ci sono i nostri rappresentanti c'è Sandro Morselli c'è il vice coordinatore che faranno questa attività mentre noi diciamo discutiamo un po' del progetto quindi usate la chat inizialmente poi qualche domanda interessante magari può essere utile a tutti direi a Francesco di selezionarla se qualora ci fosse a quel punto la magari la commentiamo ad alta voce direi va bene grazie mille prego eh allora Matteo Brasca eh Matteo Brasca come dicevo anche lui ingegnere di l'architetto lui è un professionista che opera direi sintetizzando queste due competenze eh lui ha un percorso un poco diverso perché poi ha proseguito anche con le sue formazioni facendo un dottorato ehm e quindi completando anche la da questo punto di vista la sua formazione e anche tu se vuoi raccontarci qualcosa magari anche della tua esperienza come studente adesso magari eh siamo lontani ma è una cosa che possiamo dire è certamente il fatto che eh dentro questo corso di studi hai fatto anche un percorso di Erasmus per esempio eh che è un'altra attività che noi sosteniamo molto eh appunto essendo un corso in lingua italiana come diceva Maela poi bisogna anche un po' compensare magari per certe questioni e allora si eh sicuramente incentiviamo tantissimo gli scambi internazionali all'interno del corso di studi eh e poi nelle molte iniziative che si fanno all'interno del corso di studi con i premi eh i concorsi che che abbiamo eh diciamo fatto in tutti questi anni diciamo dalla fondazione del corso su questo Matteo sicuramente può dirci qualcosa perché è stato sempre protagonista sì grazie Laura eh per l'intervento come testimonio al noto che eh alla fine l'aspetto che prevale è l'euforia vi vedo tutti sorridenti tutti contenti e quindi credo che questo sia un ottimo biglietto da visita che confermo ogni volta no? forse con tono un po' più dimesso scusate la stanchezza eh però in realtà anch'io sono molto contento di aver fatto ormai tanti anni fa perché credo di essere il vecchietto del gruppo ehm questo corso di edile architettura al secondo anno nel quale era stato istituito quindi eh diciamo che la mia scelta è stata un po' una scelta forzata all'inizio perché io volevo fare architettura e mio padre mi ha detto che voleva che diventassi ingegnere e in quell'anno è spuntato il corso di edile architettura e quindi diciamo che ho colto la palla al balzo e da lì diciamo si è avviato un percorso oserei dire fortunato o perlomeno eh del quale mi ritengo profondamente soddisfatto dopo ho dovuto dar ragione a papà e quindi mi sono iscritto anch'io all'albo degli ingegneri però diciamo che non mi offendo quando in cantiere qualcuno nota un pseudo buon gusto e mi definisce architetto e quindi vabbè allora sono contento diciamo di aver scelto questa formazione ibrida ehm poi vabbè la mia carriera diciamo così eh accademica oltre a quella da studente è proseguita con un dottorato di ricerca e e poi grazie all'opportunità che eh professoressa Malighetti e gli altri mi hanno dato eh attualmente sono anche professore a contratto per cui diciamo che ho vissuto l'ingegneria edile o la facoltà di ingegneria edile e annesse diciamo un po' tutto tondo no? ehm hai proprio centrato un uno degli argomenti nella tua introduzione che mi sono forse più cari eh per quanto riguarda la mia diciamo così esperienza nel corso di dire architettura e che in realtà mi fa riflettere anche molto in questo periodo nel senso che penso ai giovani collegati e alla possibilità o all'impossibilità che hanno avuto recentemente di viaggiare e devo dire che eh una delle esperienze che mi porto eh dietro anzi le esperienze eh che mi hanno aperto al mondo no? in termini di viaggi in termini di competenze in termini di studio in termini di conoscenza degli altri dei posti eccetera sono proprio le esperienze di viaggio che sono cominciate proprio attraverso il corso di edile architettura nel senso che già a partire dal secondo anno ma rafforzato sul quarto e quinto anno abbiamo avuto la possibilità sostanzialmente di girare il mondo e di conoscerlo accompagnati da valide guide eh a questo si aggiunge il fatto che nel quarto anno proprio ho avuto la possibilità di fare un periodo all'estero di studio in Erasmus e anche questa è stata una delle esperienze diciamo che mi ha cambiato come? no no niente ci abbiamo perso per un istante ma ci abbiamo ripreso subito no dicevo che l'esperienza dell'Erasmus è stata un'esperienza che mi ha aperto gli orizzonti sia dal punto di vista professionale che umano no? e quindi sapendo che è molto incentivata all'interno del corso è un'esperienza che suggerisco a tutti eh che suggerisco di cogliere proprio come esperienza di vita no? ehm e quindi eh questo è un ulteriore tasto giusto che hai toccato Laura nella mia esperienza eh di accademica per quanto riguarda poi invece diciamo così profilo professionale uscito dal anzi non ancora uscito perché ero ancora laureando sono entrato in punta di piedi nella società nella quale attualmente sono partner eh ho fatto ormai posso dirlo perché i cappelli bianchi ce li ho ho fatto tanta tanta esperienza ho preso tante ehm per quanto la formazione sia altissima eh comunque la vita professionale insegna di più o da o da quel plus no? che poi completa la formazione che ripeto è già estremamente eh come dire approfondita tanto è vero che in studio noi attualmente siamo eh una trenta più di trenta persone e diciamo almeno una ventina sono edili architetto e quindi questa è la testimonianza anche di quanto creda nella formazione diciamo così che viene erogata attraverso questo corso di laurea ehm dicevo ho fatto tanta tanta esperienza all'inizio su cantieri su diciamo attraverso produttori ehm produttori di sistemi progettisti eccetera e quindi questo mi ha fatto crescere ulteriormente fino a diciamo attualmente non che mi senta pagato ma a avere un po' la responsabilità di dirigere un gruppo grazie Matteo anche per la tuo racconto eh mi piacerebbe far vedere ai nostri ai nostri ragazzi qualche cosa eh di quello che state su quale state lavorando magari partirei sempre da Laura diciamo per fare un giro eh e adesso vorrei fare se hai voglia di raccontarci eh scegli tu eh quale progetto ti piacerebbe raccontare ce ne sono in realtà un paio che sono interessanti eh uno che è di innovazione tecnologica perché riguarda la stampa 3D con la terra cruda quindi un'innovazione tecnologica che è una caratteristica eh diciamo sicuramente un tema di approfondimento di questo corso di studi e l'altro è la torre unipol che sta sorgendo a Milano che è un edificio complesso quindi che forse sintetizza bene un po' eh le competenze che bisogna avere eh proprio da ingegnere e di l'architetto eh per poter gestire un progetto così complesso eh Laura cosa pensi che di cosa vuoi raccontarci cosa farei un accenno un accenno alla stampa in terra cruda perché mi sembra eh interessante anche in quanto un po' inusuale perché siamo in un campo ancora di sperimentazione e poi approfondire un po' di più magari la torre giusto per eh per vedere vedere qualcosa di di fruibile a tutti perché la ricerca è sempre la punta dell'iceberg che è importante guardare ma è un po' più lontana ehm volevo spezzare una lancia in favore a quello che ha detto Matteo assolutamente sul tema dell'internazionalizzazione del viaggiare eccetera eh io personalmente ho viaggiato molto e eh questo weekend ero in mezzo ai tifoni a Londra da Maela non sapevo tu fossi là altrimenti ti avrei fatto una telefonatina eh tra l'altro collaboriamo molto con quella società di eh e viaggiare è importantissimo le lingue sono importantissime io vi voglio invitare come vi ha invitato Matteo a partecipare al progetto Erasmus agli altri progetti opportunità che vengono date dall'università eh chiaramente ci sono molti aspetti da tenere presente dalle tematiche ai costi alla lunghezza di questi percorsi eh però non fatevi spaventare informatevi e capite quale fa eh quale fa per voi e mi permetto anche di dare una mezza risposta a un ehm Giuseppe e anche a Lorenzo dico una mezza risposta perché io non mi posso permettere di dare informazioni eh che posso dire formali su come attualmente ha strutturato il corso ma vorrei dare un'opinione personale eh la domanda è una domanda era se c'è l'obbligo di frequenza e l'altra se esistono i corsi online ecco lascio da un punto di vista formale lascio ovviamente alla professoressa Malighetti eh e all'ingere del più tavolo lo spazio per rispondere l'opinione personale è se anche ci fosse la possibilità di scegliere perché venisse detto potete farlo da casa o in presenza eh io punterei per in presenza perché ci sono tutta una serie di valori aggiunti legati all'interazione e anche personale con i con i compagni con i professori che secondo me se è possibile fare corsi in presenza è un è un vantaggio questa è una mia opinione personale eh se posso rispondere eh eventualmente su questo scusami su questo tema noi abbiamo diciamo la didattica è in presenza fortunatamente eh quindi è ripresa pienamente e l'abbiamo sostenuta sempre eh la didattica abbiamo tutti gli strumenti per fare didattica a distanza siamo stati i primi a attivarci in questo senso con il Politecnico di Milano eh per cui gli strumenti sono ancora attivi eh comprese diciamo l'attrezzatore di tutte le aule con la possibilità di registrare eh le lezioni e la possibilità di collegarsi con degli strumenti che nel caso specifico delle lezioni sono legate a una piattaforma che è quella di Webex eh ma diciamo eh le lezioni sono a distanza solo per gli studenti che si trovano in difficoltà eh legate di movimento di spostamento legate a questioni del Covid come stava dicendo Laura la l'importanza di essere fisicamente presenti eh è molto alta eh perché di fatto non non cancella diciamo quel rapporto che esiste importantissimo tra gli studenti anche eh che nessun strumento informatico può sostituire rispetto alla presenza fisica eh nei nostri corsi inoltre si lavora tantissimo in gruppo e questa interazione è molto più eh efficace ovviamente in presenza eh come vi dicevo le aule sono molto belle molto ben attrezzate eh gli studenti passano diciamo le loro eh otto e più ore in realtà di fatto stanno finché non chiude la la sede proprio perché è una sede dove si lavora molto bene eh pertanto ripeto eh fate conto che ci sono gli strumenti per seguire a distanza eh ma che di fatto è la didattica dovete considerarla in presenza laura se intanto vuoi farci vedere dividere lo schermo sì sì ho aperto un paio di pagine internet ho aperto il sito internet dello studio con cui collaboro strettamente che è lo studio mare cucina l'architect io personalmente non mi sono occupata di questo progetto ma eh lo porto sempre esempio come qualcosa di molto interessante è un eh per ora sono dei moduli sperimentali stampati in terra cruda l'effetto architettonico come potete vedere molto eh scenografico ma in realtà c'è uno studio vediamo se sono delle foto di cantiere qui no però come dire ci sono anche molti eh molti video potete andare a vederli ehm è molto interessante il lavoro che è stato fatto perché i miei colleghi hanno studiato un codice e qui già vi lancio il messaggio che gli strumenti informatici sono molto importanti in questo momento perché sono a servizio dell'idea ma vanno anche un po' piegati eh eh all'idea quindi conoscere a fondo alcuni strumenti informatici e la programmazione informatica vi permette di fare cose tipo questo eh miei colleghi hanno studiato un codice che permettesse di valutare in base alle tipologie di suolo e le condizioni climatiche del sito la migliore struttura interna di questa sorta di conchiglia in modo da le condizioni del sito ottenere il meglio con tutti gli effetti positivi devendo per trasportare se non vorrei entrare nei tecnicismi eh però lo trovo un approccio veramente molestante perché eh è replicabile scalabile eh e ottimizzabile in base alle condizioni climatiche ripeto è una sperimentazione ma la direzione è questa quella di cercare di ridurre l'impatto ambientale di creare qualcosa che sia più specifico del luogo in cui ci si trova il secondo progetto del quale vi volevo parlare sempre così eh a a sport prendo sempre dal nostro sito internet è la torre unico di di Milano qualcuno di voi magari eh se di Milano se è passato a Milano negli ultimi anni avrà visto il cantiere questo è un render un altro che può decidere il livello di potorealismo di queste immagini che eh mostra abbastanza bene quale è la quindi abbiamo una importante maglia vedete qua eh strutturale che eh crea dei rombi di 25 metri del test e questa maglia ha dopo applicate praticamente due pelli di un'esterna che è di tenuta l'area all'acqua e poi una interna e questa specie di gonna sotto per tecnicismi però potete capire la complessità perché da una parte c'è la forma architettonica dall'altra di nuovo c'è da studiare un codice informatico che permetta di realizzare questo tipo di strutture ottimizzando ogni singolo pezzo di vetro altrimenti se fossero tutti pezzi di vetro diversi sarebbe economicamente insostenibile ci sono i colleghi che studiano i materiali ci sono gli ingegneri facciatisti come Maela qui presente che fanno delle analisi molto puntuali sulla tenuta all'aria la tenuta all'acqua la temperatura poi c'è il problema dell'antincendio ci sono gli strutturisti che studiano questo cesto fatto con tubolari di acciaro e via dicendo all'interno c'è un spazio cavo alto decine di me su quale si affacciano poi tutti tutti gli uffici in alto c'è una parte completamente vetrata è una serra che contiene conterrà un bar ristorante qui vedete un po' di cantiere e elementi come questo vi voglio far capire appunto la complessità elementi come questo sono degli enormi tiranti che sostengono dall'alto tutti questi piastre immaginatevele come dei balconi sostenuti dall'alto quindi c'è una complessità di un'interse notevole come ultima cosa vi faccio vedere questo è un sito internet non è il nostro sito internet ma probabilmente gli amici della torre perché continuano ad andare a far fotografie e il buono è stata a Milano ultimamente loro postano continuamente foto e video dell'andamento della costruzione ecco qui vi volevo mostrare questo dettaglio a parte bosco verticale tutto il fiorire di edifici nuovi intorno voglio farvi vedere la differenza tra quando un edificio lo immaginate e quando un edificio si costruisce in questo caso vi è evidente prima di tutto il fatto che viene costruita prima la struttura poi il sistema secondario di facciata poi tutti i vetri e questa fa parte della complessità quindi pensare come organizzare un cantiere e l'altro elemento è che ci sono degli tecnici l'architettura e le costruzioni sono fatti anche elementi tecnici quindi alcune di essere integrate architettonicamente quindi perché ne parlano degli possibili studenti di ingegneria architettura e dell'architettura proprio per questo perché vi rendete conto come in situazione di questo tipo le soluzioni possono essere mille la soluzione migliore è quella che riesce a trovare un connubio tra una soluzione tecnologica e un'esigenza architettonica di vario tipo funzionale estetica e vi è dicendo ci sono specialisti che devono comunicare tra di loro mi piace pensare che progetti come questo ovviamente ci sono dietro decine ma sono fai stai ma con insieme i due aspetti noi siamo un po' la sintesi di questi vari direi grazie Laura più o meno quello che volevo dirvi come e credo che gli esempi che hai fatto vedere facciano capire molto bene che la competenza che ha un ingegnere dell'architetto è proprio una competenza che permette proprio perché unisce due discipline importanti diciamo due mondi quelle dell'architettura dell'ingegneria di avere la capacità di gestire dei progetti complessi come quelli che hai fatto vedere soprattutto la torre perché di fatto un ingegnere dell'architetto è in grado di capire i disegni di tutti capire il linguaggio di tutti laddove ci sono molti specialismi e quindi in qualche modo di fungere una figura di coordinamento quando si ha a che fare con un progetto complesso quindi questa è sicuramente una peculiarità che caratterizza un ingegnere dell'architetto abbiamo ancora un po' di tempo e volevo lasciare un po' di spazio a Maela come dicevo anche perché non la vedo da tanto tempo e mi piacerebbe che ci raccontasse che cosa sta facendo e ci sono due progetti in qualche modo che io ho chiesto loro di individuare un paio di progetti che potevano essere utili diciamo raccontare e oltre a quello della riqualificazione della torre Maela sta diciamo seguendo con Arup uno dei progetti di uno studio molto importante che sono i BIG insieme a Ederwick che è un altro studio londinese altrettanto importante su un'area di grande trasformazione urbana quindi se vuoi raccontaci qualcosa di questi progetti Certo un attimo che condivido lo schermo così vi faccio vedere anche qualche immagine del progetto che Laura ha appena menzionato che è l'headquarter di Google a Londra non so quanto conoscete Londra ma si trova a King's Cross quindi l'area dell'edificio è molto evidenziata del rosso in questa immagine è molto lunga infatti se guardate nei vari giornali articoli che adesso ormai finalmente si trovano su internet perché è un progetto confidenziale io ci lavoro dall'inizio quindi dal concept adesso siamo in cantiere un'area molto lunga lo chiamano il grattacielo orizzontale perché questa quest'area è un'area lunga 300 metri quindi quasi come come se fosse un grattacielo distribuito in origine antale una delle complicazioni di questo lotto di questa zona è la vicinanza proprio a King's Cross la stazione ferroviaria diciamo che la distanza è di pochi metri tra quella che è la stazione e quella che è la facciata est dell'edificio che questo porta ulteriori complicazioni il progetto fatto con Big Netherwick l'edificio è stato diviso tra loro per cui è tu vivere quindi la parte centrale che vedete con tutti questi montanti in legno è stata progettata da Big mentre quello che è il piano terra è la parte più in alto dell'edificio è progettata da da Etherwick una cosa che volevo farvi notare la facciata è molto complessa e per esempio qui potete vedere l'edificio in sé sembra che abbia tre piani ma in realtà all'interno dell'edificio nella parte sud ci sono due piani per ognuna di queste fasce che poi diventano tre nella parte nord quindi l'edificio in realtà ha dieci piani nella sua porzione principale ma la facciata ne mimica tre questo vuol dire che i montanti della facciata in legno che vedete hanno nel loro punto più alto hanno una lunghezza di undici metri i pannelli di vetro tra i montanti sono due per questioni ovviamente di buildabilità e costo e che sono ovviamente uno di sopra dell'altro quindi ci sono delle complessità anche di come la facciata si muove e soprattutto interagisce con la struttura la struttura dietro uno delle diciamo delle cose dei challenge di questo edificio è proprio la struttura perché tutto l'edificio in sé è praticamente appeso da delle travi reticolari che si trovano sul tetto e che sono poi collegate al core in casso estruzzo centrale quindi è come se vedete nell'immagine qui e per cui potete immaginare che l'edificio in operation si muoverà tantissimo e la facciata ovviamente si deve muovere con l'edificio c'è una una complessità del dettaglio di facciata che non ha non ha precedenti perché anche per una questione di esistente prossimità alla stazione e difficoltà di creare delle nuove fondazioni nel perimetro dell'edificio questo però ha dato a due architetti anche la possibilità di avere questa apparenza al piano terra di edificio senza colonne quindi è come se sta volando al di sopra del terreno e la facciata in sé non è soltanto molto molto alta è formata da diversi componenti ora non voglio andare troppo nel dettaglio tecnico ma è anche una facciata che i pannelli sono tutti orientati diversamente vediamo se vi faccio che si vede un poco da qui ci sono delle zone di transizione i montanti cambiano uno spessore per rispondere e qui torno a quello che dicevo di architettura tecnica e bilding fisica che sono delle materie che voi toccherete anche nel corso per rispondere a quelli che sono i carichi solari esterni e quindi già durante il concept abbiamo studiato insieme agli architetti il diverso orientamento delle facciate per riuscire a limitare gli apporti solari e per rendere il vetro un po' più trasparente perché ovviamente chi sta lavorando all'interno vuole non solo avere un ambiente ben illuminato ma anche poter vedere poter vedere Londra da fuori quindi sì diciamo come vedete questa è parte dell'analisi come Laura ha detto adesso mi piacerebbe farvi vedere come quella facciata che avete visto adesso nei disegni del concept è diventata nella realtà perché questo è sarebbe comparire nel mio schermo spero velocemente l'edificio per com'è nella realtà questo è in cantieri adesso come vedete è incredibile quando è visto da fuori ci sono sette gru cinque core perché proprio per la lunghezza che vi dicevo questa è una immagine della zona sud qui vedete stiamo iniziando a costruire la facciata che adesso sta venendo insieme vari pannelli sono installati e poi tutto il percorso che ovviamente dal concept ha portato in cantiere abbiamo fatto ovviamente quelli che chiamano mock-up quindi la facciata viene costruita parte della facciata off-site e si fanno dei test come diceva Laura di permeabilità all'aria all'acqua insomma per testare soprattutto quando la facciata non ha precedenti quindi questo vedete sono le varie prove off-site prima di arrivare in cantiere e qui è semplicemente uno snapshot dell'edificio che non ha colonne al piano terra anche se questo è il muro davanti alla stazione perché piano piano adesso al momento stanno levando i prop che mantenevano temporaneamente i piani superiori in place scusate il mio inglese italiano tocco velocemente nell'altro progetto semplicemente perché ha un valore e un contesto completamente diverso e vi dà un po' i due estremi di quello che facciamo nel mondo delle facciate vedete adesso dovreste vedere nello schermo queste torri un po' nude nel senso che qui il 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 cladding parte della facciata era già stata rimossa proprio per un periodo un pericolo di antincendio perché a seguire dalla dalla Grenfell Tower che avrete visto nelle news come Laura diceva nel 2017 nell'incendio che purtroppo si è portato a 72 persone immediatamente molti molte torri a Londra che avevano materiali simili combustibili in facciata hanno risposto rimuovendo più velocemente possibile il materiale dalla facciata 4 di queste 5 torri erano state anche temporaneamente evacuate nel panico al giorno dopo della Grenfell infatti adesso diciamo che le sfide su questo progetto sono di natura completamente diversa c'è un'interfaccia con i residenti che ovviamente sono frustrati sono molto arrabbiati le torri sono degli anni 70 ma nel 2007 erano stati fatti anche dei lavori di facciata quindi loro sono confusi non capiscono come si possano essere stati fatti tanti errori soltanto pochi anni prima adesso debbono ripassare tutto un periodo di lavori mentre loro si trovano all'interno dell'edificio la sfida è mantenere residenti all'interno dell'edificio mentre i lavori di facciata hanno effetto e quindi con tutto quello che questo può portare in sé questi sono gli edifici come dicevo senza parte della facciata in cui si vede semplicemente il calcestrutto del muro principale e questo diciamo che è un visual di quello che saranno dal punto di vista tecnico il progetto è un po' più semplice nel senso che stiamo semplicemente togliendo dei materiali combustibili e mettendo di nuovo i loro rispettivi combustibili anche se ci sono varie complessità perché poi da questo è scaturito tutt'altro il progetto è cresciuto tantissimo negli anni però ne sono molto orgogliosa perché ecco la complessità tecnica non è l'unico motivo per cui faccio questo lavoro e per me dare ai residenti a persone che non possono neanche permettersi un altro appartamento la consapevolezza di essere sicuri di andare a dormire sicuri è molto molto importante l'ultima cosa faccio vedere velocemente test ovviamente noi lavoriamo per il council che è il corrispondivo del comune in Italia quindi una parte di Londra che si occupa ovviamente di questo patrimonio edilizio sociale di gestirlo e per cui loro come hanno detto ai residenti al di là delle leggi delle varie regolamentazioni che avrebbero testato la facciata nuova per la performance antincendio e per dimostrare che sono sicuri e quindi abbiamo fatto a Dubai tra l'altro perché come potete immaginare dopo la Grenfell i testing i centri sono molto busy occupati e quindi siamo dovuti andare a volare a Dubai e abbiamo fatto il test antincendio di una porzione della facciata per dimostrare che quello che verrà installato nel loro edificio è sicuro e non combustibile bellissimo grazie questo progetto devo dirti che mi ha fatto un grandissimo piacere che tu ce l'abbia raccontato perché proprio mi è sembrato la chiusura di un cerchio nel senso che ripeto Maela ha fatto una tesi su questi argomenti poi appunto io la prima volta che la rivedo dopo dieci anni e vedo che hai applicato molte delle tue conoscenze un tema lavorando sul social housing un tema attualissimo quello del recupero dei fabbricati diciamo anni settanta quindi edifici che hanno scarsa qualità architettonica perché avreste visto che l'edificio di partenza non aveva molta qualità e che invece con questo intervento ha acquistato dignità prima di tutto sicurezza probabilmente efficienza dal punto di vista energetico e anche un aspetto nuovo prima Maela ha parlato di vestito e di pelle insieme quindi questi sono temi che sicuramente si affrontano all'interno di un corso di studi come questo quindi parleremo molto di di entrambi le questioni cioè sia di architettura che l'ingegneria di come appunto si possono integrare bene questi due componenti per dare una risposta a un bisogno primario come in questo caso che è quello dell'abitare Matteo tu ci avevi selezionato un progetto interessante che riguarda quello di un ponte stiamo quasi per chiudere però vedo che siete ancora numerosi quindi se avete pazienza di ancora qualche minuto vorrei lasciare la parola anche a Matteo per raccontare diciamo un progetto di un ponte perché di fatto diciamo è vero che all'interno del nostro corso di studi essenzialmente noi lavoriamo su una scala che è quella dell'edilizia quindi questo è il principale ambito su cui diventerete padroni esperti perché diciamo rispetto ad altre dimensioni che possono essere quelle di un architetto che magari lavora anche sulle scale più urbanistiche magari anche del design per alcuni aspetti l'ingegnere ed il architetto ha proprio un po' una componente di riferimento che è una scala di riferimento che è quella di l'edilizia però anche un'infrastruttura come questa diventa interessante perché dimostra che l'ingegnere ed il architetto è in grado di governare comunque una complessità e quindi di progettare delle strutture o delle infrastrutture dove la struttura acquistano importanza la struttura diventa anche il linguaggio architettonico per cui appunto da qui questa capacità di governare un po' le due dimensioni Matteo vuoi raccontarci qualcosa di questo progetto? Sì magari brevemente nel senso che vabbè l'avevamo selezionato per diciamo differenziarci un po' nel senso che edifici alti torri ovviamente anche noi come società di ingegneria ce ne occupiamo però vorrei sottolineare il fatto che la professione dell'edile architetto poi come dicevi tu genera diciamo così una consapevolezza trasversale per cui che si parli di una torre o della ristrutturazione del bagno della asciutura materia diciamo così no la competenza e la formazione sentiamo poco io non sento nulla si è frigerato si è frigerato allora temo che non possiamo lasciargli la parola essendosi frizzato purtroppo questi sono gli inconvenienti della della diretta mi chiedo nel frattempo che magari Matteo recupera la sua rete se c'è qualche domanda che ritenete che deve essere discussa questo chiedo in particolare a Francesco Francesco Pittao se ritieni che ci sia qualche domanda che abbia un senso poter discutere apertamente ma vedo che ne hanno fatte tante in realtà mentre parlavamo quasi tutte credo alla maggior parte perlomeno abbiamo dato delle risposte ovviamente sintetiche sul discorso Erasmus chiaramente ci sono state tante domande ci chiedete sempre quali sono gli accordi quando partire vi ho linkato alcune pagine online dove potete trovare già delle informazioni tendenzialmente considerate quarto anno sicuro perché è più facile chiaramente riuscire a fare l'Erasmus quell'anno lì è possibile valutando insieme eventualmente i pieni di studio effettuare anche al terzo o al quinto anno vedo che è tornato Matteo è tornato un po' a scatti ecco sei andato ottimo quindi sull'Erasmus ecco sicuramente è possibile partire vediamo che ogni anno abbiamo sempre più studenti che vanno all'estero abbiamo tantissimi accordi noi come corso di laurea siamo il corso di laurea il politecnico che ha più scambi in uscita quindi studenti ed anche vanno all'estero a fare delle esperienze non abbiamo tutta questa attività effettivamente sull'incambio quindi sui studenti che dall'estero vengono vengono fondamentalmente in doppia laurea però ripeto soprattutto gli studenti di vanno all'estero abbiamo tante richieste ogni anno diciamo che nell'incoming ovviamente è resa più difficoltosa dal fatto che il corso è regalato in lingua italiana e quindi ci portiamo dietro però ecco tra l'altro Francesco Pittao è responsabile dei scambi internazionali per cui è sicuramente la persona più competente per poterne parlare Matteo ti sei scusa ma non ti riusciamo a seguire e quindi vedo ancora bloccato per cui magari darei per scontato che forse dobbiamo salutarlo da questo punto di vista perché lo vedo sempre bloccato mi chiedo sempre se c'è qualche domanda che riusciamo a diciamo a raccontare qualche altra osservazione adesso posso guardare anch'io la chat è vero che ci sono tantissime domande sul test e su queste questioni allora su queste domande come vi dicevo avremo degli open day dedicati a livello di Ateneo nella chat magari vi inserisco le date degli incontri e vi chiedo cortesemente magari di ripartecipare intanto sono veramente tra pochissimo tempo tra un mese scarso ci saranno questi incontri online a cui seguiranno poi degli incontri invece in presenza il 2 aprile quindi molte di queste domande troveranno una risposta comprese quelle tutte sui test perché ci saranno degli incontri dedicati relative a queste domande adesso credo che la cosa che vi inviterei eventualmente a sfruttare è l'occasione di avere dei professionisti che vi possono raccontare alla fine che cosa fa un ingegnere di architetto perché lo scopo diciamo dell'incontro è essenzialmente quello di farvi capire che tipo di lavoro fa quale competenze mette a frutto quindi se potete sfruttate diciamo l'occasione di questo incontro in questa direzione se qualcuno vuole anche intervenire di persona ovviamente si senta libero di farlo allora non mi sembra di capire che non ci sono altre domande è vero che c'è una struttura come è strutturata la giornata tipo di un ingegnere di l'architetto inteso come professionista Giovanni Sabadin intendi o come studente visto allora proviamo a chiedere magari lasciare una parola a dire una giornata tipo di un ingegnere di l'architetto professionista probabilmente è molto difficile nel senso che sarà un'attività molto intensa però magari lascerei uno studente visto che abbiamo i rappresentanti che sono gentilmente venuto visto che hanno anche risposto strada facendo le vostre domande se c'è qualcuno di voi che vuole raccontare qual è la giornata tipo di uno studente di ingegneria e di l'architettura allora diciamo che per quanto riguarda i studi sta rispondendo Martin esatto io e Sara siamo due studenti del terzo anno di EDA e possiamo dire che la vita come studente di ingegneria e di architettura è molto intensa come le giornate di EDA sono molto intense prima la prof Malighetti citava il fatto che spesso si resti fino alla chiusura del campus e si sfrutti un po' appieno quella che è la bellezza di stare all'interno del campus di Lecco sicuramente a differenza di molti altri corsi di studio è un corso che impegna molto ci sono tante ore di laboratorio e quindi i momenti liberi diciamo dalle lezioni durante la settimana si limitano magari a un paio di mattinate o una giornata in cui non ci sono effettivamente attività in università ma che vengono principalmente dedicate insieme ai compagni per portare avanti i progetti e quanto poi viene visto la lezione è una cosa molto specifica e molto bella secondo me nel nostro corso di studi è che si lavora molto in gruppo io ho avuto compagni che noi abbiamo iniziato l'università e poi è scoppiata la pandemia e ho avuto compagni di liceo che hanno scelto altri indirizzi e durante la pandemia si sono sentiti molto soli perché avevano iniziato da poco l'università e diciamo che avevano avuto poche occasioni di conoscere altri compagni noi abbiamo avuto la possibilità di legare molto tra di noi proprio perché lavoriamo tanto insieme e quindi nonostante la pandemia ci abbia tenuto molto lontani anche dal Politecnico in realtà essendo giornate molto intense dove si lavora tanto insieme anche a distanza abbiamo potuto mantenere questo questo legame diciamo grazie Martin allora io direi che non so i nostri ospiti prima di tutto se hanno altri impegni che si sono ritagliati una finestra perché ho ricevuto una ti ringrazio per gli chiarimenti Laura Maela sei ancora connessa Matteo se nel frattempo Matteo Brasco è riuscito a riconnettersi ecco Matteo abbiamo avuto troppo gli inconvenienti del mestiere avrei voluto farvi vedere cosa per dire architettura e si trasformava poi in un progetto ma lo faremo un'altra volta magari ce la facciamo se qualcuno vuole ancora ha la pazienza di tenersi collegato perché mi spiacerebbe anche non darti questa opportunità e lasciamo uno spazio diciamo un ultimo spazio per questo racconto per chi ancora voglia di collegarsi poi così anche quest'ultima perché c'è ancora qualcuno che si sta collegando quindi abbiamo sporato un po' questo fatto il progetto di mentoring che c'è lì a Lecco che mi sembra una cosa eccezionale sì intanto che Matteo prepara la sua esatto no no per quello dico in attesa solo per questo se può se può aiutare tra le varie eccezionalità del polo di Lecco c'è la possibilità di accedere a un'attività di mentoring che permette proprio agli studenti che lo desiderano di avere un professionista all'esterno delle università quindi che è disponibile per aiutarli a individuare delle difficoltà risolvere dei dubbi e identificare magari quale può essere il settore dove inserirsi io personalmente sono mentore da 12 anni del polo di Lecco e l'ho trovata un'esperienza molto arricchente anche da un punto di vista personale è un modo per rimanere connessa all'università e per ridare qualcosa di quello che ho ricevuto a a mio tempo ed è un'altra esperienza la quale vi invito partecipare è gratuito ci sono professionisti come me che sono disponibili a dare la loro professionalità e il loro tempo per cui questa è una possibilità magari gli studenti presenti non so se fanno parte di questo progetto e vogliono dare la loro opinione perché appunto non lo so però questa è una cosa che mi piace molto e volevo sottolineare anche quanto ci siano tante ragazze c'è un un problema che sottolineiamo sempre nel mondo del lavoro di disparità uomini donne ecco io ho visto già nel mio corso all'epoca quindi sto parlando di diversi anni fa una una parità e confermiamo che i dati sono noi abbiamo i dati i dati oggetti alla mano che sono esattamente il 50% qui abbiamo una parità di genere piena e lo dimostra anche il fatto che la presenza femminile che abbiamo avuto oggi dimostra che è possibile fare l'ingegnere e l'architetto avere una carriera brillante ed essere una donna in questo è una cosa molto importante e l'ultima cosa che volevo dire era relativa proprio alla professoressa Malighetti lei è la dimostrazione di come questo corso non guarda solo al nuovo come unica soluzione alle necessità di edilizia nel mondo ma la professoressa si occupa di una branca particolare che secondo me è importantissima soprattutto in Italia cioè quella di recuperare il patrimonio esistente di curarlo di valorizzarlo e di magari proporre qualcosa di nuovissimo che si sposa tecnologicamente con qualcosa di antico e questa è un'altra delle particolarità di EDA secondo me dare questa sensibilità e questo giusto l'equilibrio giusto tra il vecchio e il nuovo perché io vi ho mostrato Grattacieli ma la professoressa potrebbe lavorare su un castello da rinnovare per farlo problematiche è completamente diverso abbiamo visto anche col lavoro di Maela in effetto il lavoro sugli esistenti quindi va bene grazie Matteo tu riesci a condividere? no credo che non ci riusciamo allora io direi che purtroppo per Matteo non riusciamo eventualmente se avremo modo vi faremo avere qualche link per poter vedere quello che vi volevo far vedere e avendo noi sforato anche un po' tanto sui tempi direi che è meglio che ci salutiamo se avete altre domande vi ripeto c'è la possibilità di a parte di iscriverci eventualmente ma davvero l'invito è quello di collegarsi a quegli incontri prima ancora che saranno appunto brevissimo e che sono quelle che vi ho mostrato nelle prime slide che adesso vi scrivo nella chat ma che trovate sul sito dell'open day del Polo e diciamo del Politecnico vi metto diciamo le date degli incontri o non tali che possiate metterli a calendario memorizzarle avrete diciamo una presentazione anche disponibile questa presentazione vi condivido di nuovo scusate la slide perché mi viene più semplice avendo difficoltà a condividerla all'interno della della chat ecco vi ricordo ecco queste sono le date che dovete un po' memorizzare per poter avere ulteriori approfondimenti proprio sulla struttura del corso quindi in queste presentazioni del 16 marzo 17-18 in questi orari avrete delle comunicazioni molto mirate proprio sulla struttura del corso di studi questa più dedicata appunto diciamo al mondo della professione e poi segnatevi sempre il 2 aprile mattina in presenza al campus Leonardo dove avremo la possibilità di fare tre ulteriori incontri tematici sul tema dove troverete anche dei banchetti dedicati al corso di studi dove troverete studenti rappresentanti degli studenti docenti che vi racconteranno appunto e daranno tutte le informazioni di cui avete bisogno io vi saluto vi ringrazio per l'attenzione vedo che alla fine siete stati comunque numerosi siete rimasti a lungo nonostante lo scorrimento del tempo quindi suppongo che sia anche qualcosa che vi ha interessato ringrazio tutti i presenti i nostri ospiti e gli studenti che hanno partecipato e vi do un arrivederci diciamo ai seminari ai seminari online grazie a tutti arrivederci arrivederci ciao buonasera arrivederci a tutti grazie arrivederci